Ragazzi buongiorno, benvenuti su CryptoSala da ancora oggi, io sono Federico e oggi è domenica 14 luglio 2019. Nel video di oggi guardiamo l'andamento del prezzo di Bitcoin nel dettaglio, in particolare perché oggi è domenica, pertanto c'è la chiusura di un'altra candela settimanale, quindi giornata molto interessante da analizzare. Iniziamo a guardare l'andamento del prezzo sulle 4 ore, sul settimanale e sul giornaliero, dopodiché riparliamo del famoso indicatore NVT, Network Value to Transaction, che vi ho mostrato diverse volte nelle precedenti settimane, che dovrebbe essere in grado di identificare quelli che sono i top e i bottom di Bitcoin, quindi anticipare dei potenziali dump o pump importanti nel prezzo. Quindi andiamo a vedere esattamente che cosa ci sta raccontando alla luce dell'andamento del prezzo di Bitcoin nelle ultime settimane. Quindi se vi sembra interessante ragazzi non dimenticate sempre di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non foste iscritti, cliccate la campanella per ricevere le notifiche. Ragazzi qua siamo sulle 4 ore, Bitcoin l'ultima volta che ci siamo aggiornati era giovedì sera, trovava supporto in questa circostanza su questa trendline gialla ascendente, potenzialmente rilevante perché abbiamo 1, 2, 3 e poi tornando indietro nel tempo diversi punti di contatto, questi erano in supporto e poi diversi punti di contatto in resistenza, vedete qui Bitcoin ha trovato resistenza lungo questa trendline, quindi sembrerebbe essere rilevante per il prezzo di Bitcoin. E quindi in questo momento che cosa è successo? Da giovedì sera Bitcoin ha trovato supporto, è ripartito verso l'alto e poi si è fermato a 11.850 dollari all'incirca, un punto prezzi rilevante perché nello stesso punto prezzi Bitcoin era stato precedentemente rigettato, direi tra il 3 e il 4 di luglio e poi c'è stata diversa price action in questa zona, praticamente dal 26 di giugno fino al 30 di giugno. Quindi Bitcoin è arrivato a questo livello prezzi, è stato poi successivamente rigettato dalla resistenza ed in questo momento sta nuovamente testando il supporto della linea gialla ascendente. C'è anche la confluenza di questa linea discendente invece di resistenze che poi Bitcoin aveva bucato per poi ripartire sopra i 13.000 che adesso potrebbe agire come punto di potenziale supporto. Quindi ci sono un po' di incroci di linee interessanti proprio nel punto in cui si trova Bitcoin in questo momento, che sta a 11.172 dollari, perlomeno su Bitstamp. Se andiamo a guardare il nostro nastro di medie mobili, vediamo che in questo momento sulle 4 ore, mentre sul giornaliero Bitcoin è ancora saldamente al di sopra del nastro di medie mobili, questo vuol dire che sul giornaliero il trend è rialzista, mentre sulle 4 ore il trend è diventato ribassista. Questo perché Bitcoin dopo il suo rimbalzo non è riuscito a risalire al di sopra del nastro di medie mobili e in questo momento è al di sotto dello stesso. Quindi potremmo dire che Bitcoin è in questo momento compresso e schiacciato tra la resistenza del nastro di medie mobili che si trova al di sopra e eventuali punti di supporto di queste trend line che sono proprio al di sotto del prezzo di Bitcoin, con tra l'altro dei volumi che sono al ribasso, quindi potremmo aspettarci una decisione da parte del prezzo di Bitcoin nelle prossime ore, per cui se bucare il supporto al ribasso o altrimenti bucare la resistenza del nastro di medie mobili e tornare quindi a testare superiori livelli di resistenza con il supporto proprio del nastro di medie mobili. Se andiamo a guardare poi il time frame settimanale, come dicevamo oggi è domenica, pertanto c'è la chiusura a mezzanotte di un'altra candela, settimanale e che cosa ci racconta quest'altra candela? Come vedete è un'altra shooting star, per cui non settimana scorsa ma quella precedente si era chiusa con una candela che di solito mostra l'arrivo di una inversione di trend, per cui con il prezzo di Bitcoin che viene spinto verso l'alto dai bulls e poi il prezzo si va a chiudere sempre nell'arco della stessa settimana ad un prezzo più basso rispetto al prezzo di apertura. Vedete che il fondo della shooting star della stella cadente è rosso, pertanto il prezzo di chiusura è più basso del prezzo di apertura. Quindi di solito queste candele mostrano un'inversione di trend, non è successo due settimane fa, abbiamo ancora oggi la formazione di un'altra shooting star. Quindi in questo momento la semplice candela settimanale, se si dovesse chiudere a questo livello prezzi, ci mostra potenzialmente l'arrivo di eventualmente ribassi sul time frame settimanale. Se andiamo poi a tirare fuori Ichimoku, che è un indicatore che non vi mostravo da un po' di tempo sempre sul settimanale, decisamente l'outlook è bullish da un punto di vista settimanale, questo perché Bitcoin è riuscito a passare al di sopra della nuvola di Ichimoku. Vedete questa nuvola qui, che è rossa quando è bearish e verde quando è bullish. Il fatto che Bitcoin sia riuscito nelle precedenti settimane a bucare questa nuvola è decisamente un segnale molto importante bullish nel lungo termine. E quindi è difficile secondo me che Bitcoin riesca a tornare successivamente al di sotto della nuvola stessa. Se andiamo a vedere l'ultima volta in cui Bitcoin aveva bucato la resistenza della nuvola, era il momento in cui si era innescato il precedente bull market. Quindi se andiamo a vedere esattamente che cosa è successo in precedenza, qua dobbiamo andare parecchio indietro perché Bitcoin durante tutto il bull market del 2016 è stato al di sopra della nuvola di Ichimoku, dobbiamo tornare, pensate a fine gennaio 2016, vedete qui, con Bitcoin che buca la nuvola e con Bitcoin che si trova a 400 dollari all'incirca. Per cui da lì Bitcoin è partito per i successivi due anni fino a raggiungere un top di 19.000 dollari. Quindi vi faccio capire, questo indicatore dovrebbe mostrarvi qual è il potenziale di Bitcoin a lungo termine a seguito della rottura di questa nuvola di Ichimoku. Vedete che poi non è più sceso al di sotto di questa nuvola che è diventata sempre poi verde fino a, fino a in questa circostanza qui, che era il 28 maggio 2018. E da lì la nuvola è rimasta al di sopra del prezzo, poteva agire come resistenza, ma Bitcoin ci è passato attraverso, quindi sicuramente nel lungo termine segnali molto positivi per Bitcoin, quindi conferma della partenza di un bull market che durerà a mio avviso per i prossimi due anni almeno. Se andiamo poi a guardare invece il time frame giornaliero, vi mostro l'MVT, vedete che ci sono chiaramente visibili sul giornaliero delle linee che sono rilevanti per il prezzo di Bitcoin, che sono queste due trendline, la prima in resistenza con 1, 2 e 3 qui punti di contatto, e vediamo anche il contatto in supporto, 1 e 2. Quindi in questo momento Bitcoin, se dovesse rompere il supporto che avevo mostrato sulle 4 ore a ribasso, potrebbe trovare comunque supporto lungo questa trendline, che potrebbe trovarsi vicino ai 10.300 dollari all'incirca, e continuare il suo movimento a rialzo trovando supporti e resistenze all'interno di questo canale ascendente che si va pian piano ampliando, per cui un broadening, ascending, scusate, channel. Se andiamo poi a guardare qua sotto abbiamo l'MVT, una versione un po' più sofisticata rispetto a quella che vi ho sempre mostrato, e come vedete queste bande rosse, vedete che da qui a qui c'è la colorazione rossa, questo vuol dire che l'MVT è al di sopra dei 140, quindi si trova in una zona di overbought, ipercomprato e quindi potenzialmente allarme di ritracciamento, tuttavia questa versione mostra anche delle trendline, e come vedete fin tanto che Bitcoin si manterrà al di sopra di questa linea, e sembrerebbe che in questo momento, vedete che qui come ha trovato bene supporto, in questo momento si trova ancora al di sopra di questa linea, non ci, a mio avviso non c'è particolarmente da preoccuparsi. Vedete che nella precedente circostanza, proprio nel momento in cui Bitcoin eravamo a, adesso ve lo dico esattamente quando eravamo, eravamo qui in questa circostanza, per cui con Bitcoin il 12 novembre 2018, che lateralizzava 6.000 dollari ed è dampato a 3.000 dollari nell'arco di poche settimane, qualche mese, in questa circostanza l'MVT mostra una rottura del supporto di questa trendline, e da lì Bitcoin è decisamente sceso verso il basso. In questo momento l'MVT ci sta mostrando che sì, siamo in una zona di overbought, per cui siamo decisamente rossi, tuttavia c'è stato un punto di supporto su questa linea qui, nelle precedenti settimane, e in questo momento Bitcoin si trova ancora saldamente al di sopra di questa linea, quindi per adesso non c'è niente di preoccupante che ci indica questo indicatore. Potrebbe benissimo essere che Bitcoin trovi supporto su questa linea e torni nuovamente a salire. Stiamo a vedere. Ragazzi per oggi è tutto, spero che l'analisi sia stata chiara, comprensibile e soprattutto interessante. Vi ringrazio per la vostra attenzione, fatemi sapere se pensate che in questo momento Bitcoin sia pronto per un importante dump, o altrimenti un ulteriore rimbalzo per testare nuovamente i 13.000 dollari. Fatemelo sapere, grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!